A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico è stata ufficializzata la nomina di Massimiliano Nardocci come direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, l'USR, per l'Abruzzo. Era già vicario dopo il trasferimento della dottoressa Antonella Tozza. Nardocci ben conosce la scuola abruzzese, aquilano, di 50 anni. Dal 2010 ricopre l'incarico di dirigente del Ministero dell'Istruzione dirigendo gli ambiti territoriali dell'Aquila, Pescara e Teramo e come vice direttore dell'USR Abruzzo. Da lunedì si torna sui banchi con novità e restrizioni ormai abbandonate per studenti e docenti. Sappiamo che c'è una grande voglia di rientrare in classe da parte di tutto il mondo della scuola, gli studenti, i docenti, le famiglie. Quindi questo deve essere l'anno del ritorno alla normalità, sicuramente, del ritorno alla socialità, del recupero del benessere, del piacere di stare a scuola. E accanto a questo sappiamo che dobbiamo concentrarci sul recupero degli apprendimenti perché nonostante tutti gli sforzi fatti nei due anni precedenti, gli enormi sforzi fatti da tutti, dai docenti, dagli studenti, dalle famiglie, abbiamo necessità di concentrarci sulle attività didattiche. Quindi socialità, benessere e attività didattiche per il recupero delle competenze che in questi anni di pandemia hanno subito, purtroppo lo sappiamo, un danno. Il sistema scuola complessivamente ha tenuto, ma ci sono stati anche tanti abbandoni scolastici. Il numero degli studenti è in calo, c'è purtroppo un trend demografico negativo, abbiamo perso quest'anno circa 2.400 studenti, purtroppo concentrati per lo più sulla scuola dell'infanzia, oltre 1.000 studenti, 1.000 bambini di scuola dell'infanzia. Questo nonostante l'accoglienza di circa 800 studenti ucraini. Ovviamente questi sono trend demografici, la scuola fa di tutto per recuperare intanto gli abbandoni scolastici che in Abruzzo non sono, diciamo così, sopra la media dell'area di riferimento che è il meridione. Certamente il problema c'è. Sempre parlando dei numeri, abbiamo lo stesso numero di docenti, ormai da anni, quindi a parità di numero di alunni abbiamo un minore numero alunni classe che si attesta intorno ai 19 alunni per classe e quindi questo ci consente una didattica più appropriata. Grazie.